Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi col classico appuntamento del cosa aspettarci Cosa aspettarci dalla 33esima giornata di serie B Ragazzi manca veramente poco alla fine della regular season Manca poco ai verdetti finali Iniziamo forse nella parte più bella del campionato Le partite pesano di più, i punti pesano di più E ci aspettano tanti scontri diretti per la salvezza Come avete capito ieri dal video che ho fatto Tanti scontri anche magari per la zona playoff C'è una zona promozione ancora da definire Un secondo posto ancora da conquistare per il Genua Inizia veramente il bello di un campionato comunque straordinario Come quello di serie B Mi raccomando però, prima di partire col video Vi devo chiedere due cose, un pollice nel suo video 30, 40, 50, mi piace qua sotto Un'iscrizione al canale Totalmente gratuito ragazzi Mi raccomando, iscrivetevi e noi partiamo subito Partiamo con l'anticipo Quello che sarà venerdì ore 20 e 30 Modena-Parma Gara importante per il Parma Soprattutto per capire quanto veramente può essere continua La squadra di Pecchia Visto che arriva da due vittorie consecutive E soprattutto deve consolidare un posto nei playoff Settimo a quota 47 punti A più ragazzi 4 dal Palermo Nonno a 43 E' importante per il Parma fare la terza vittoria consecutiva Perché vorrebbe dire un bel segnale di maturità Dall'altra parte un Modena che quantomeno ha la speranza ancora di giocarsi con questo sconto diretto Per cercare di accorciare proprio sul Parma E portarsi a meno due solo dalla squadra di Pecchia E lottare veramente ancora e sperare ancora per un posto playoff Che sarebbe qualcosa di straordinario per gli uomini di Tesser Venezia-Palermo sabato è il primo match che partirà di sabato alle ore 14 Venezia-Palermo è una gara importante per il Venezia Perché deve fare punti salvezza Per cercare di non essere scavalcato da un Cosenza Che in questo momento ha i suoi pari punti Ma farebbe i playoff E quindi per il Cosenza è una gara importante Soprattutto perché arriva dopo una sconfitta E bisogna capire come la squadra di Vanoli arriva Come ha lavorato in settimana Per dimenticare una sconfitta che comunque sta pesante Perché ti riporta con i piedi per terra Dopo due vittorie consecutive che avevano fatto bene al gruppo E soprattutto devi fare punti Devi fare punti contro un Palermo Che quantomeno deve ancora può ancora sperare nell'ottavo posto Perché dista solo di tre punti Perché la squadra comunque c'è Ha fatto una prestazione un po' sotto tono contro il Cosenza E l'unico punto fatto nelle ultime due partite Lascia un po' di amore in bocca C'è la possibilità per il Palermo di riscattarsi E di sperare ancora nei playoff Ascoli su Tirol Altro match di sabato alle ore 14 Gara importantissima Per il su Tirol che deve consolidare il quarto posto E per l'Ascoli che deve quantomeno Superare diciamo Arrivare alla quota Alla soglia 40 punti Che non ti darebbe comunque la certezza Dalla salvezza matematica Ma comunque sarebbe Inizierebbe a essere un buon bottino Che ti potrebbe garantire nel giro di pochi turni Di avere una salvezza poi tranquilla Senza star lì a fare troppi calcoli Fino alle ultime giornate Proseguiamo con Cosenza e Cittadella Altro match di sabato alle ore 14 Sconto diretto per la salvezza Sconto diretto per la salvezza Più che altro sconto diretto Per cercare Entrambe le squadre di non giocarsi un playoff In questo momento farebbero Cosenza e Perugia Rispettivamente il Cosenza 36 Il Perugia 34 Però il Cittadella deve stare attento Perché ha quota anche lei Ha quota 36 punti E soprattutto viene da tre sconfitte Nelle ultime cinque partite Con soli due punti raccolti E forse incontra Fino a questo momento Tra le squadre sotto La squadra più in saluto Ovvero il Cosenza Che ha raccolto dieci punti Nelle ultime quattro partite E soprattutto sta facendo vedere Prestazioni importanti E non prende gol da quattro partite La squadra di Viali È una gara molto delicata Molto importante Il pareggio serve poco a entrambe Chi vince mette un altro grande passo Verso la salvezza Spal Brescia L'abbiamo già detto ieri Nel video che ho fatto ieri Spal Brescia ragazzi È una partita che è Da dentro fuori Come per la Spal Come la Spal Ha giocato la partita contro il Benevento Di Benevento E poi ha vinto 3-1 Deve giocarla un po' alla stessa maniera Quella in casa contro il Brescia Una partita di vitale importanza C'è la speranza per tutti e due Di giocarsi quantomeno un play-out O comunque di rimanere aggrappati Alla zona Alla zona verde Diciamo Alla zona che poi ti possa garantire Una salvezza E per farlo Tutti e due devono cercare di vincere Brescia penultimo Quota 31 punti Spal Terzultimo Quota 32 punti Chi vince Magari può avere la speranza Anche di Di prendere altri punti Alle squadre che stanno davanti Ed è per questo Che è un pareggio Anche qui Non serve a nessuno dei due Serve entrambe vincere Per continuare a sperare In una salvezza Che fino a poche settimane fa Per entrambe Sembrava isperata Soprattutto per il Brescia Benevento Regina Match di sabato L'R14 Un match che Ci può dire Un qualcosa Soprattutto lato Regina Che se dovesse vincere La porterebbe A terza vittoria consecutiva E forse ci direbbe Veramente che La squadra di Pippo Inzaghi È guarita Dopo il periodo Molto brutto Negativo Fatto di 8 sconfitte Nelle 9 partite giocate Con soli 3 punti Raccolti Nella vittoria Contro il Modena In casa E soprattutto Non match Per la Regina Per cercare Di consolidare Questo quinto posto Che non sarebbe male Alla fine del campionato Comunque ti garantirebbe Di giocarti Quanto meno La prima fase Dei playoff E magari giocarti Poi l'accesso Alla semifinale Per il Benevento Una partita Dire importante Sì Tra l'altro Con il nuovo allenatore In panchina Vediamo quello Che apporterà Il nuovo allenatore Ma comunque Non dovesse arrivare Una vittoria Diciamo che il Benevento Sarebbe ancora Sempre più vicino Giallo e tanto Alla retrocessione In Serie C Quanto comunque Come hanno detto Anche certi tifosi Del Benevento Vergognosa Per come è arrivata Proseguiamo Con Baricomo Altra partita Importantissima Qua in chiave In chiave Soprattutto promozione diretta Per il Bari Perché la vittoria Di Bolzano Al 93esimo Per 1-0 Ha dato Una grande scossa A tutto l'ambiente Una grande Una grande Autostima Dentro anche i giocatori Perché soprattutto Nell'altro campo Quello di Como Quello di Como Dove giocava il Grifone Il Genoa Ha fatto 2-2 E quindi Erano tre punti Che poi sono pesa Già erano importanti Quei tre punti Ma col pareggio del Genoa Sono diventati ancora più importanti Per il Bari Che si porta A 4 punti Dal secondo posto E perché Non dovrebbe Crederci per assurdo Perché 4 punti In ragazzi 6 partite Si possono Tranquillamente Recuperare Ed è per questo Che deve farlo Se ci vuole sperare Deve vincere Contro il Como Che è comunque A meno 6 punti Dai playoff Diciamo che Quanto meno i playoff In questo momento Sono molto difficili Da raggiungere Per la squadra Di longo Ma il Como È una squadra Che ti dà fastidio Ed è molto difficile Da battere Per il Bari È un altro test Di maturità Importante Da passare Genoa-Perugia Match importantissimo Per aspetti diversi Ma match che mette in palio Tre punti pesantissimi Perché il Genoa Deve vincere Per tenersi stretto Il secondo posto Che vorrebbe dire Promozione diretta Per il Perugia È una gara importante Perché è obbligata A fare punti Anche contro il Grifone Perché è a quota 34 punti Perché sotto Spal e Brescia Entrambe Gli hanno preso Tre punti Nell'ultimo match Di campionato E soprattutto Deve stare attento Il Perugia Perché poi Ci vuole un attimo Comunque A rimetterti Nelle zone brutte Del campionato Ed è per questo Che Giona-Perugia È una gara importante Per entrambe Soprattutto per il Grifone Ma anche per il Perugia Di Castori Obiettivi diversi Ma che mette in palio Tre punti Di vitale importanza Cagliari-Frosinone Match di sabato L'area 16-15 Gara importante Per il Frosinone Per mettere Un alto tassello Verso la Serie A Che sembra molto vicina Che è tanto vicina Perché il Frosinone Ha la bellezza ragazzi Di 10 punti di vantaggio Sulla terza in classifica Basta vincere ancora Per il Frosinone Nelle prossime Due o tre partite E sarà poi Serie A A livello anche Matematico Già forse Con qualche giornata Di anticipo Deve farlo E deve farlo Senza troppi scrupoli Battere il Cagliari A Cagliari Sarà una gara Molto difficile Perché il Cagliari Sta facendo Buone prestazioni Lo 0-0 Contro il Pisa A Pisa Ha regalato un match Molto scoppiettante Bello da vedere Che comunque Anche se non ci ha regalato gol È stata una partita piacevole Ed è un grande test Di maturità Per il Cagliari Per capire Quanto sta Facendo Veramente bene Ranieri A tutta la squadra Quanto è maturata La squadra Sotto la gestione Ranieri Per il Frosinone L'abbiamo già detto Una gara importante Per avvicinarsi Sempre di più Alla Serie A Chiudiamo Contro la Nana Pisa Altro match importante Per il Pisa Per consolidare Un ottavo posto Che inizio campionato Sembrava un po' Insperato Visto come era partita La squadra Ma deve tenere Solo stretto il Pisa Perché ha tre punti Solo di vantaggio Sul Palermo Non in classifica E soprattutto Non vince due due partite Ed è per questo Che è chiamato a vincere Il Pisa Contro una Ternana Che viene da Viene da Da una sconfitta Un po' inaspettata Quella contro il Brescia A rigamonti Per una zero Ma è una Ternana Che deve Quanto meno Cercare di raggiungere A meno 45 punti Per avere poi Una salvezza Diciamo Non dico matematica Ma quasi E soprattutto Per salvare un po' Una stagione Che è stata Sotto Al di sotto troppo Delle aspettative Pollice nel suo Al video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo A un prossimo video Bella ragazzi